Perché forse sono stato anch'io pedinato quella sera stessa, non voglio dirlo adesso, questa è una cosa che comunque ti ha detto al mio avvocato. Pedinato da chi? Da una persona. Che lei era il figlio? Sì, sì. Quindi subito dopo, mezz'ora dopo mi chiamò Renato e mi ha detto che era successo questa cosa strana, che l'avevano buttato per questa cosa quasi.